Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistro? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione e a condire il tutto la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, nuova puntata, concorrenti in postazione, pubblico. Per ora è a pane e vino, dopo arriveranno anche i piatti che verranno giudicati dalla mia incredibile, supersonica, fantasmagorica, giuria, Fiammetta Farda, Ingrigio Armani oggi. Un misto tra il grigio e il beige, il grigio. Un misto tra un bianco e un bianchetto. Un bianchetto. Un cardorossi. Mentre non ha trovato vestiti si è messa la tenda del camerino. Chiara Massi? Splendida come sempre, sembra una bajur. Simora da Pescara. Calve. Sono contento oggi due donne. E Chiara da Guandotadino. Ciao a tutti. Sposate entrambe. Così non rompi subito te. Sto in un po' come te. Non sono già impegnato come te. Allora quattro sfide. Tre danno i punti. La prima non li dà. Chi la vince sceglie l'ingrediente o il tema della prova successiva. Sapete già come funziona. Vi vedo sorridenti. Io mi sto distraendo sempre di più. È di manualità. Sembra una frittatina ma è fatta di sole e patate che avete già pelate in acqua in rosti. Ok? Serve una padella e un po' di attenzione e omogeneità nello spessore. Così viene bene grazie all'amido. Tre minuti, via! No, sto qua. Sto qua perché sono interessato a vedere la tecnica utilizzata da Simora. Che bel nome che hai. Eh sì, è bellissimo, vero? Sì, è bello. Che segno sei? Scorpione. Ti è? Perché? Riccardo, dite perché lo sa. No, perché io ho un rapporto di odio e amore. Anzi, amore e poi odio con lo scorpione. Ti ricordo quel mio segno. Eh, ma con la donna, scorpione. Ho capito. Con te ce l'ho solo di odio. Non ti preoccupare. Ma vabbè, la faccio subito. Sei fidanzata? Sì. Finito, te l'avevo detto, ciao. Con chi? Con Pierluigi. Mi sto scherzando. Per tutti i piggi, però. Piggi? Sì. Pierluigi, piggi. Piggi. Ciao, piggi. Tranquillo, sto scherzando. Piggi che cepevo. Vabbè, vado di qua. Chiara. Che segno sei? Scorpione. Che è? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Sei fidanzata? Sì. Con Gian Carlo. Allora, andiamo dalla giugna. Come si chiama? Fabio. Ciao Fabio. Dai, un po' così per spezzare... Scorpione, ragazzi, c'è un terzo qui. Oggi è chiuso la puntata in questo istante, te lo volevo dire. Allora, Fiammetto, che segno sei? No, scherzo. Vabbè. Parliamo di rosti. Parliamo di rosti. 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 Con due puntini. Piatto, uno dei non moltissimi piatti che ci ha regalato la Svizzera. Esatto. Che sono patate grattugiate e poi schiacciate e dorate in padella, buonissime. Te lo servono anche con la padellina? Con la padella, sì, nella padella e alcuni te lo girano così davanti perché la parte più croccante ovviamente è quella sotto. È buonissimo, è povero, è ricco di sapore perché è croccantino e poi pensa, ci si può fare delle cose creative. L'altro giorno ho fatto un corso di cucina, ho fatto un rosti grande e poi dentro ho messo un pasticcio di salmone e yogurt greco, l'ho arrotolato come una girella e poi lo taglio a tronchettini e diventa anche carino come aperitivo e si fa veramente in poco tempo se l'appiattite bene con le manne, come diceva mia nonna. Esatto. Il salmone è buono, è vero. Perché guardi lui? No, stavo pensando, ricette da fare. Il color rosti, no, io penso che in Svizzera sia proprio un'arte, nel senso che c'è gente che sta lì le ore a fare un rosti come se viene, se fai in 5 minuti, basta non lavare le patate altrimenti si perde l'amido e l'amido non le fa attaccare. sapete una cosa? stop! aspetto, come è? come è? è? ok, Simona poggialo sulla alzata, Chiara lo stesso. non male, ovviamente la grattugia è quella per fare le scaglie, se qualcuno avesse visto utilizzarla alle nostre concorrenti prima. rouges, come rougesati, come Simona rougesati. Allora, straccetti o acqua pazza? straccetti. ma le briffi prima? perché scelgono sempre troppo che piacente. beh, è stata la scorpione e ci si capisce. sono gli straccetti il piatto per la prova di abilità. straccetti, di solito a Roma si mangiano di manzo, con la rucola e le scaglie di grana, però qualsiasi cosa sia stracciata e saltata in padella, ci va bene. 30 secondi per fare la spesa, care le mie, Paola e Chiara, sembrano un po' Paola e Chiara. via, 30 secondi. vediamo Simona e Chiara, veramente. allora, darò una ricetta anch'io dedicata allo scorpione Riccardo Rossi, perché è una botta di vita. servono delle patatine tagliate a dadini arrosto, quindi le preparate in anticipo. poi, aglio in camicia, rosmarino, salvia, pepe nero in grani. la potete fare o con il petto di pollo o con il manzo classico. e un buon 100 grammi per 4 persone di lardo di colonnata, botta di vita. stoppete! qui abbiamo il pesce, hai visto che ci avevo preso? vodka? anice. anice. qua, carne. 10 minuti, via! parto da Chiara, ci facciamo cosa? facciamo un branzino all'anice. branzino all'anice? sì. hai anche l'anice stellata, vedo. sì, esatto. quindi, branzino lo farai pezzettini, stai facendo un fondo con il porro. poi aggiungerò i pomodori e l'anice stellato e poi, infine, il pesce. ma cos'è belga quella? sì. e i pomodori e il limone? il limone mi serve per decorare alla fine. ok. quando finisce di girare. ok, ci siamo. allora, io faccio dei straccetti, li faccio carbonati. cioè, ricordano la carbonara? molto buono, credo, già da ora. ormai, ormai, le nostre concorrenti... se riesco a liberare, ok. io le conosco adesso, adesso fanno la cosina carina, light, così, perché sanno che prendono il parere di Chiara. a Riccardo ci buttano dentro o il carciofo, il pecorino, il guanciale. la fiammetta non si lascia, certo. eh, c'è un olio molto caldo, eh. sì, perché la basta. no, no, abbassa la fiamma e butta subito dentro qualcosa, se no fuma. fuma. però è anche la caratteristica del wok, è un po' stare sulle alte temperature, però attenzione alla digeribilità. quindi, carotina tritata, abbondante, che fa il fondo. ma mette anche l'uovo, vedo, quindi. sì, alla fine. ok. un bel fondo di olio. questa si può anche togliere. che fai? la sposto un attimo, perché devo prima preparare la carne. ok, intanto era spento, eh. no, era al minimo. ecco perché. è spento, eh. ok, non me l'avevo accorto. magari, nella fretta, allora, ti giro un po' questo, e ti dico che a volte con un goccino di acqua, riesci a bloccare anche la sbruciacchiatura delle carotine. senti questo suono onomatopeico? sì. sì, vabbè. ok, ci metto un goccio d'acqua io, e basta. vabbè, vado di qua. attenta a quel coltello, perché è flessibile. sono i trincianti, così non vi trinciate voi. che fai? faccio nella vita, faccio... sei mancina? sì, sono mancina. sì, prima nella vita e poi sul tagliere. sul tagliere sto facendo una dadolata di pomodori da aggiungere al porro. ok, allora, dopo, nella vita? nella vita faccio l'impiegata. ok, e nella vita se tagli i pomodori con il coltello a sega, secondo me ti vengono meglio, sai? perché se c'è la pellicina, così la incidi bene. allora, padella sul fuoco, cosa ci fai? allora, adesso c'è il porro, l'ho un attimo tolta dal fuoco, che si stava un po' arrossolando. arrostoato? sì. adesso la rimettiamo. e il porro dov'è? lì? ah, ok, non lo vedevo, sì. e arrosto l'asci, sì, anche i pomodori? sì. arrosto lisci. ok, voglio capire, il pesce se va poi dentro a tutti questi putpuri di ingredienti? sì, esatto. fantastico. bene, sembra di mandare un telegramma. no, capisco, questa prova alla prima serve un po' a sciogliersi. io ti do un consiglio. tutte le volte che i miei concorrenti utilizzano un ingrediente dal sapore così netto e deciso e forte in piccole quantità, come l'anice, ti consiglio di non fare nella fretta al csss, ma di dosarlo giusto assaggiando anche, perché se sa poi solo di anice potrebbe essere un problema. lei ha infarinato la carne, tu sei vitello? sì. vitello ha infarinato, di qua a branzino, ricordiamo. senti questa, è una botta di vita. dai. allora, è facilissimo, basta una padella grande e rovente alla Riccardo Rossi, vedete il fumo praticamente che scioglie la padella. lì mettete un filo d'olio appena appena appena, lo spicchietto d'aglio in camicia schiacciato, anzi gli spicchietti, le bacche di peperino così si tostano, salvi al rosmarino e dopo 30 secondi, così non si bruciano troppo, ci buttate all'interno gli straccetti di carne assieme al lardo di colonnata, che si sciogliano un attimo e dà questo sapore anch'esso di rosmarino, pepe e salvia. quando saltate il tutto e farlo diventare croccante, basteranno due minuti appena, aggiungete le patatine, quindi tagliate a dadini e vi dicevo già cotte in precedenza al forno. le patate all'arrosto, è anche un piatto di riciclo se vi rimangono delle patate al forno. saltate il tutto così le patate assorbono i grassi e il sapore di tutto il resto e lo servite con del pane tostato. ovviamente accompagnate un insalato qualcosa di molto fresco perché il piatto è un po' strong a livello di grassi, però è buonissimo e lo fa un mio amico a Milano che si chiama Lamberto, che io saluto, fa piatti poveri così, è buonissimo. allora fammi salutare Armando che mi prepara con amore ogni volta questi stracci di pezza di manzo saltati in padella, olio, aglio e peperoncino sono una cosa straordinaria. ma non è straccio però, straccio di pezza, fetta di pezza, questo è straccetti però. si straccetti, comunque ovviamente quel piatto che ti devo dire. vabbè scusa, allora ricordiamo anche che amico me l'ho invento, che fa un'ottima parmigiana, molto simile, molto simile alla pezza di manzo, perché lui la fa talmente sottile che si straccia, capito? ti faccio degli straccetti di pezza di manzo? Sì grazie Armando, come? in te, non stracciarli. io faccio gli straccetti di pollo, con i peperoni, straccetti normali, con i peperoni e li cuosso in padella con la soia, quindi vengono un po' caramellati, allungo un po' con l'acqua, viene una salsina perché li infarino prima, infarino il pollo. sembra una buona bambina con questo vestito, sembra una bambolina, la treccele, fiammetta. bene, mi vuol subito togliere da Chiara. ma sai, gli straccetti si prestano molto, secondo me, a stare in un panino. giusto, una rosetta magari anche. in una rosetta, fantastico, e li ho anche mangiati, stile giapponese, col panino di riso, con una riduzione di soia e germogli croccanti, molto buono. il panino con gli straccetti, niente male. Allora, adesso che l'avete messo in padella, torno e faccio il riepilogo, io ti ho visto spremere del limone nelle uova. sì. quindi tu hai fatto una fricassea, sai? praticamente, sì. però hai messo anche il bianco. sì, sì. nella carbonara metti anche il bianco? c'è gente che la pensa diversamente, mi sembra di capire. come metto il bianco? sì, metto anche il bianco. perché mi piace? no, dipende da come la fai cuocere e quanto la fai mantecare. guarda, è una crema ancora più buona, perché il tuorlo si secca prima. se il bianco lo cuoci diventa sodo, se non lo cuoci non è cotto e quindi è sbagliato. vabbè, la mia carbonara è un po' più consistente, è più strong. ok. così mi torna. se dici, la faccio così, me ne frego. basta saperlo in quel senso. come si chiama il santo, hai detto? il santo. il fidanzato. piggi. san piggi. intanto se non la salta è uguale, fai col mestolino. la pasta si salta, questo non importa. che fai? cioè, che fai? che hai fatto? hai sfumato? te l'hai infarinato? ho sfumato, no, non l'ho infarinato, ho sfumato con il liquore all'anice. sai che non l'ho mai mangiato così con il liquore? mi sembra un buon profumo. sapete quanto manca? 15 secondi. allora impiattiamo. ti vedo pronta. la belga l'hai messa? la uso... ah ok, occhi perché è amara quella eh? come fondo, sì. 5 4 no, no, no. stop! piatti sull'alzata. piatti sull'alzata. piatti sull'alzata. vabbè. sei proprio un scorpione eh. eh, sono tosta, che ci vuoi fare? piatti sull'alzata. si, le chiedi subito perché la nostra... voglio sapere perché non ho usato la schiumarola. facevi prima, no? perché non l'ho usata? perché? perché grattava il fondo. ah, ti rovino la guocca per quello? no, mi veniva via, veniva su anche la crosticina che non andava bene. vabbè. comunque una cosa l'ha detta. la risposta ce l'avete sempre. ok. ci sarà un motivo se lo scorpione, no? eh, eh? si nasconde sotto i sassi e poi tam, tam! allora, è buono perché ha una cremosità che ricorda effettivamente quella della carbonara. quello che manca per ricordare veramente la carbonara, intanto il sale, perché non c'è, è completamente insipido. eh, quello lì, io avrei messo anche un po' di pepe perché effettivamente il risultato, nonostante gli ingredienti ci siano, è un po' piatto. quindi andava forse tirato un po' su con del pepe sicuramente e poi forse proprio perché è insipido manca un po'. però la cremosità della carbonara c'è. ricordo, l'hai usato la vitella. carotine di fondo. mazza. eh, è buona, ma... sale e pepe, proprio... ti aspettavi anche il formaggio? no. quando avevo detto carbonara, no? no, 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 lo sapevo, insomma, era... dopo se no veramente copriva tutto. ma vedella? sciapa proprio. sciapa. è carina come idea perché rende gli straccetti cremosi, però oggettivamente è totalmente piatta, ti sei dimenticata il sale, il pepe, è così. pensavo a Pigi, pensavo a Pigi. pensava a Pigi. allora... pesciolino dichiara, la tua omonima. esatto. branzino, pomodorini, porro e a te, aspetta, occhio che lo scuro è un pezzo di anice stellato, eh, quindi è duro. visto che ti voglio bene, ti ho risparmiato il dentista. anche perché... ti sente tanto l'anice, tanto, tanto. e pure si muove... allora, no, dà freschezza comunque in bocca, però c'è veramente troppo anice, cioè, mi uccidi il pesce. come di alca, mi porta il conto, il pesce e il caffè, per favore, grazie. no, il caffè e il pesce. ah, ti faccio un bel bocconcino io, guarda. no, li sto togliendo, così non li scappi dai. è un branzino corretto. eh, dai, eh, è troppo. io, infatti, ci ho provato all'inizio e quando ho visto l'anice ho detto ammazza. è un profumo meraviglioso, ma veramente, proprio... poi tutte e due l'hai messa sia in liquore che... sì, il liquore rosso sfumato alla fine. ma perché ti piace? Ti piace proprio l'anice? ma sì, è un sapore che col pesce si abbina, secondo me, bene. arrivo Fiammetta, stavo aspettando Chiara. a me piace, nel senso che è in tutta la Provenza si usa moltissimo fare il pesce o con sotto le barbe del finocchio, oppure... bollite? no, 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 sulla griglia in cottura, sulla griglia in cottura, si mettono anche nell'acqua le barbe del finocchio e quindi è una cosa che si fa. io trovo che è abbastanza equilibrato tuttavia e che ha un sapore per noi esotico, ma interessante. Comunque gli manca anche qui sale e connessi e annessi. dai, con la prima ci scaldiamo, poi dopo vedrete che sono ubriaco dall'anice. vedrete che miglioriamo. a me piace, visto che adesso dico mia mamma ormai tanto non mi parla già più, mi piace col liquore alla menta, l'unico modo in cui la bevo, bicchierino stretto, l'anice di liquore alla menta, la incendi, ci metti la mano, fa pressione, lascia a bordi così con la mano forte, diventa tutta emulsionata e poi te la bevi tipo shots come di gestivo. Una però, non dodici. 7 a 5 per Chiara. Allora, torniamo subito. Pubblicità. Bentornati in studio. Siamo ancora un po' inebriati dal profumo di anice che Chiara ha messo nel suo pesce, che però gli ha fatto prendere 7 punti sui 5 di Simona. Non tanto alti, però spesso succede, va presa confidenza con la cucina. Adesso sono più sicura di loro e sceglie però Chiara tra Marzala, dai, mi faccia anche quello, o Kerry. Kerry. Eh, sennò passavi anche un po' da... Eh, marzo. La prova finale era molito e andiamo a posto. È il Kerry l'ingrediente base per la prova di creatività. Eh, io lo adoro. Con tutto, col polo, con le verdure, col pesce. È buonissimo. Usato in giuste dosi. Voi dovete ricettarlo e renderlo creativo. Ci deve essere, eh. Non lo mettete solo in una piccola parte del piatto, ma deve essere l'elemento che caratterizza la principalità del piatto. Non so se mi sono spiegato, però... Sì. Più o meno, eh. Dici tu. 30 secondi e fate la spesa. Via! Allora. Peperoncini, cipo e scalogno, zucchine in fiore, uova, bacon, pescacchino. Attenta alla porta. Di qua. Grana grattugiato, uovo. Ovviamente il Kerry, che è il tema. Pan grattato, spinacini bolliti, latte, limone. Veloci, veloci. Pepe, panna, noce moscata. Stop! Cumino di qua. Quindi due spezie insieme e usi. Mi raccomando che sia il tema a prevalere, ovvero il Kerry. 10 minuti, stupiteci. Via! Subito d'aiuto. Simo, mi fai l'impasto delle tagliatelle? Vedi come ha cambiato? Vedi come ha cambiato? Vedi come ha cambiato? Assolutamente atteggiamento! Quando vogliono si avvicinano, fanno solo piccoli e poi spanno! Allora, ti dico come lo voglio, però. Ecco. Allora, voglio che metti un uovo e un tuorlo. 100 grammi di farina, ovviamente il Kerry, un po' di sale questa volta. Ok. Capito? Mi casco più con lo scorpione. Dimmi una cosa. Mentre io lavoro, mi spieghi tutto il resto che stai andando a fare? Allora, tu impasti la tagliatella e io nel frattempo preparo il condimento. Quindi adesso metterò la zucchina con lo scalogno. La farò cuocere bene. Una volta che è arrivata a cottura, una parte la farò diventare una crema, così amalgamo un po' di più. Ovviamente le zucchine saranno condite anche con un po' di cumino. Metterò i pistacchi tostati, un po' tritati con lo salamento alla fine. E anche un po' di bacon. L'abbiamo capita. Di solito girano tutto intorno così alle cose quando ti devono chiedere una borsa di marca, un po' di scarpe, una cosa del genere. No, questo è ogni riferimento alle mie ex è puramente casuale. Di là cosa facciamo? Facciamo dei passatelli con salsa di spinaci al curry. Oh, sintetica. Ok, passatelli, quindi grana... Grana, parmigiano, noce moscata e buccia grattugiata di limone. Ok, stupendo. Senti, devi fare tagliatelle, quindi elastica la vuoi? Sì. Ok, non ci vuoi un goccio di acqua dentro, vero o no? No, meglio di no. Anche perché altrimenti avremmo messo... Un solo uovo. L'altro albù. L'albume è acqua e proteine, quindi se bisogna dare più elasticità si mette di albume. Il tuorlo è più di sapore, tant'è che quando si vuole che la pasta non sia elastica ma che sia ben soda e compatta e che non si gonfi, si usano solo rossi tipo fino a 32 per chilo di farina addirittura. Allora io te l'impasto, ti basta questa per fare una porzione assolutamente sì. Io ti do un consiglio, ti lascio qua il piano, se vuoi tirarli sopra lì. Grazie. Ok, arrivo eh? Chiara, arrivo. Sì sì, perché tanto... Quando arrivi... Dimmi. No, che dovresti con lo schiacciapatate schiacciare la pallimpasto per i passatelli. Per i passatelli. Ah, farti i passatellini direttamente? Tipo così? Tipo sì, esatto. Ok, ora vengo a modino. Dai, questa te la metto qua. Grazie. Allora, cosa ci hai messo? Grana, pangrattato. Grana, pangrattato, noce moscata, buccia grattugiata del limone e l'uovo. Ok. Chiara è esperta di queste cose, sai? Ok. Si fa anche con lo schiacciapatate, però questa è una buona dimensione. E tu li condisci con un pestino fatto con gli spinacini. Esatto, che adesso metto a scaldare in padella. Poi aggiungerò la panna. Sì. Infatti si è presa come lei adesso. Una cosa alla volta. Oh, finalmente vedo quell'uovo. E poi aggiungo il curry. Ok. Allora, se dovessi cucinare per un personaggio famoso, domanda che adoro. Chi e cosa? Allora, cucinerei per Marilyn Monroe. Ma è morta, non lo sapevi. No, per dire. Oppure Jessica Rabbit, va bene anche Jessica Rabbit. Vabbè, dai, una battutina. Vabbè, ci invita? Ok. Qualcuno invita? Esistente? Vero. Ti conoscineresti, vero? Reale? Reale inviterei Madonna. Madonna. Ma sei sicura che vuoi stare fidanzata con... Come si chiama? Con Fabio. Con Fabio. Pensa lui apre la porta di questa che ha invitato, Madonna. No, no, no. Apre la porta e trova... Jessica Rabbit. E fa... Posso? Si veste anche da coniglio, secondo me. Allora... L'acqua bolle, il sugo è sul fuoco. Di qua stiamo facendo le sfogline e ci piace. Il tameran curry? Che vuoi col curry? Scegli fiammetta, antipasto, verdure? Qualcosa al wok che ti piace? Sì, una cosa col wok. Un po' strana la facciamo, dai, un po' etnica veramente. Allora, scalzo un wok, fate cipolla, carote, sedano, germogli di soia, tutti cotti insieme, tagliati a velo, meglio alla mandolina, con olio di sesamo. Se non lo avete, va bene, l'extra veloce. Allora di sesamo le rende più dolci. Saltate tutte a fiamma vive e usate soltanto un goccino di acqua per ammorbidirle. Però devono caramellarsi. A quelle aggiungete un bel cucchiaio di curry e un barattolo di latte di cocco al naturale. Attenzione che esiste anche dolce. Quella al naturale. Spremete mezzo limone all'interno, fate sobollire il tutto, se vi si restringe aggiungete un pochino di acqua e le servite non saltandosi i noodle dentro o degli spaghetti di soia, ma facendoli bollire, scolandoli in una bacinella e servendoci sopra questa zuppetta calda. Si mangia in maniera poco elegante perché si avvicina la bacinella alla bocca e con le bacchette si mangia e si succhia. Allora, Carrie, Chiara, facciamo un giro solito. A me piace con i legumi, quindi farei una zuppetta, una crema di lenticchie rosse, ma anche di ceci, mi piace molto la crema di ceci con il curry, comunque con i legumi lo uso molto. Io lo uso tantissimo il curry, anche senza che si senta. A volte anche un pizzichino appena in alcune preparazioni non si sente ma gli da un curry. Le piace Ingegner Rossi? Si, lo sai che mi piace tanto il curry e ci faccio solo il suo piatto, lo sai benissimo. I petti di bollo, fatto. Sai che se ci metti anche la mela grattugiata, la mela gialla, mi dà una cremosità particolare. Il succo di limone. Ecco qual'era quello che mi avevi detto. Questo è buonissimo, il mio pollo special. Quello famoso, mi ero dimenticato, è tutto uno. Un limone, un cucchiaio di curry, un cucchiaino di senape, un cucchiaio di miele. Mischi tutto con le mani, ci metti un petto di pollo, anzi meglio le sovraccosce, vengono più buone. Da dadini e lascili in dieci minuti e poi... Esatto. Più gastronomo? Ma ho mangiato un piccolo curry di pesce peraltro e anche latte di cocco, fatto sopra uno zoccolo di semi di sesamo neri abbrustolito, però compattato. E sopra questo c'era un misto di croccante, piccante, più il sesamo, molto interessante. Questi nuovi cuochi iconoclasti francesi che fanno parte del gruppo Omnivore. L'ho appena assaggiato. Ci piace. Attenta la pasta, eh. La vedo in superficie. C'è il curry dentro? La pasta si sente. Tutto bene. L'acqua gira la pasta. Il curry è dentro la pasta? Non l'hai messo nella pasta? Sì, l'hai messo perché lo sentivo l'odore. Non l'hai messo. Te l'ho detto. Io non l'ho mai detto. Vabbè, a questo punto... Aspetta, a me c'è una nuova cosa. Dai, picchiami. No, no, non fa niente. Vabbè, guarda che a questo punto ti aiuto io a modo mio, se posso. Sì, è giusto, è giusto, va bene così. Sì. Guarda. Adesso io l'ho messo, eh. Non ne mettere troppo. Assaggia, Simo. Eh... Assaggia. Guarda cosa ti faccio anche. Guarda, guarda. Stop! Stop! Grazie. Qualcuno che mi vuole bene. Ci hai messo il curry, tu? Yes. Ma guarda come dire, yes. Dove l'hai messo? L'ho messo dentro la salsa di spinaci. Eh. Ok. Impiattate. Piatto sull'alzata. Che è un po' spostata. Ce l'entri, ce l'è, si sente, si sente. Ah, speriamo un provo. Questo qua, guarda. Perché se no, la nostra Sabrina ti ricarico. Ah, belle larghette, eh. Pappardellaus. Ah, belle, sì. Pappardelle con zucchina, crema di zucchina, curry, pistacchi tritati. Ma non me l'aspetto, sì. Entrambi i piatti. Belle e buone. Intanto mi piace la tipologia di pasta, cioè l'averla lasciata a pappardella proprio grossa e anche spessa. Assorbe molto bene il gusto, il curry si sente. È anche un po' piccantino. E anche questa zucchina che alla fine non hai più fatto in crema. Metà e metà? Poca e metà. Ah, ok. Comunque è amalgamata benissimo. C'è anche l'elemento croccante al pistacchio, buono. C'è anche il bacon che dà un po' di affumicato. Buona idea. Piccante c'è il peperoncino. Tranquillizzo gli amici a casa, il curry c'è. È molto buona, adoro il pic e mi piace la zucca. Perchè divento mazzo. Ecco qua, casa copiello. C'è un curry e anche un peperoncino molto. Zing. Zing. Zing zong. Zing, sprint, eccetera, eccetera. È molto buono. La consistenza della pasta così spessa è buonissima. Molto bene questo insieme verde e un curry notevole, devo dire. Ho recuperato gli stracciati. È recuperato. Sì. Ottimo. Faccio io, Simo. Tranquillo. Buona volta che si. Ma dimmi una cosa. Simo, ma il cumino ce l'hai messo? Sì, però poco. Brava. Esatto. Perché non si sente tanto. Sento il peperoncino. Bene, però... Questo è il piatto di Chiara. Chiara? Passatelli. Sì. Con crema di spinacini e il curry. Allora, mi piace molto l'idea del passatello. Tantissimo. Perché il passatello assorbe molto. E quindi l'aver ridotto in crema, l'aver reso in crema comunque lo spinacino, lo assorbe molto bene. Il curry si sente anche qui. Il giusto, però, si sente. Molto buono. Prendiamo questo passatello al pesto di... Si lascia. Mmm. I pastatelli potresti farli a caso. Guarda che ci vuole un attimo, eh. La cosa assurda è che per un neofita come me il verde... Questo che ho detto subito al pesto. E invece... Ah, arriva il curry! Come sorpresa, ti aspetti, capito? Il pesto quello lì, il genovese, no? No, beh, questo è di verdura, di spinaccia. Invece... Però dà quell'aspetto lì. E invece poi senti il curry. Quindi divertente. Passatello da propria. Il curry è un grandissimo ingrediente perché ti mette a posto i piatti di tutti i giorni. Mi piace questa nuova posizione. Un passatello totalmente inaspettato. Nel senso che lo vediamo in brodo, lo vediamo in altri modi, ma così mai. Per di più, col curry piccante, secondo me, è un'idea molto originale che molti dovrebbero adottare, anche. Votiamo. Votate. Io intanto mischio le carte, eh. Sì, vai. Piatto di Simona, tagliatella a zucchina, crema di zucchina, bacon, pistacchino, ovviamente il curry. Mi cambi te il piatto? C'è. Questo lo finisco io. Questo qua. Passatelli con spinacini e curry. Devo alzare, ahimè. Il mazza deve essere proprio buono. Sì. 15 a 13 per Chiara. 22 a 18. Allora, presentazione. Prosciutto e mozzarella o soufflé salato? Aspetta, aspetta. Deve essere bello. Non indicavo il caldo, cioè deve essere bello. Presentato bene, armonioso, colorato. Prosciutto e mozzarella. Prosciutto e mozzarella è il piatto per la prova di presentazione. Qua niente spesa. Ripeto i criteri. Il piatto, quindi la scelta della porcellana che utilizzate, la forma, il colore, la struttura. Non lo mangiano, quindi deve essere proprio bello. Anche pulito. Poi creatività allo stato puro. Sette minuti, via! Vediamo un po' questo prosciutto e mozzarella. Cosa lo facciamo diventare? Hai già un'idea? Sì. Allora, saranno dei finger food. Uno è un cappuccino di mozzarella con un cornetto salato con il prosciutto crudo. Carino. Poi farò un pacchettino con il melone e il prosciutto e un hamburger di mozzarella con il prosciutto, sempre. Ti posso fare un consiglio? Sì. Mettiti il piatto poi qua vicino, così ti lasci modo di poterlo preparare qua e poi appoggi. Ok, grazie. Così non lo sporchi, che in questa fase è importante. Che fai, Chiara? Io faccio degli involtini fantasia, quindi uso delle fette di formaggio, con spuma di prosciutto, che la sto facendo, che è fatta con prosciutto, latte, panna, paprika ed erba cipollina. Ok. Più che i sapori, mi raccomando, i colori, la forma, la consistenza e come le mettete uno sull'altro. Il melone non lo usi? Il melone non lo uso. Bene. Vi faccio un favore entrambi, che ho la giuria oggi da coccolare un po'. Allora... Vai, parlate pure, Chiara. Dunque, Riccardo. Allora, per dire che non decido io. Ho detto che voleva dirlo lui il mio piatto. Dunque... Grazie. Facciutto e melone, di ghiera macchia, mozzarellina, muricelo di prosciutto, un grissino, via. Ha una fantasia, Chiara? E' anche un blog, eh? Ma no, questo è un po' un retru, no? Quello che ti devo dire io è una cosa. Volevo la ricetta di Chiara, ma scusa, prego Chiara. Da presentare prosciutto? No, parlavamo prima del prosciutto e mozzarella da presentare. Voi parlate troppo. No, però si parlava proprio della prova. Ed effettivamente non è facile, perché è il classico piatto che vedi sempre presentato allo stesso modo. Quindi a me verrebbe solamente in mente di distrutturarlo facendo delle spume come stanno facendo loro. Quindi la mozzarella, la spuma di mozzarella e la spuma di prosciutto. Però da presentare, magari in bicchierini, cose del genere. Ti do una ricetta io. Dimela. Prendi le mozzarella di bufala. Sì, piccole. Le incidi e ci metti dentro un pezzettino anche di fiocchetto. Sei il finale di prosciutto? Oppure lo avvolgi in una fettina se hai le fette di crudo. Sì. Lo copri, lo avvolgi con due o tre giri di pasta filo e lo friggi. Diventa una perla croccantissima intorno. Si scioglie la mozzarella dentro e tira fuori la salinità del prosciutto senza stracuocerlo. Tre ingredienti per un gusto deciso. Una pubblicità. Una pubblicità. Bravo. Invece in un ristorante le presentazioni di prosciutto e mozzarella vanno proprio, vanno fatte. Per cui quando uno ordina, mi porti un po' di prosciutto e mozzarella. Mozzarella a palla. La mozzarella a palla in una concolina. Poi il prosciutto tagliato molto bene, possibilmente di montagna, e una chilata di pizzetta romana calda. Sono d'accordo. Per cui tu ti prendi questo. Poi una fetta di prosciutto, un pezzo di pizzetta, confrascati e ricominci. Qua, 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 qu, 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 qu. Separati. Perché quell'attuccio, quell'attuccio della mozzarella che ha il limite di fare la scarpetta con l'interno della pizza, non si deve mischiare col prosciutto. Hai capito che vuol dire? Hai capito? Però in questo caso io sono d'accordo. Nel senso che però mi piacerebbe per esempio avere una degustazione di prosciutti. Quindi una degustazione anche solo prosciutti. Ce ne unisco uno giusto perché non si parla mai dei prosciutti del sud, ma un maiale nero dei Nebrodi che è pazzesco. Così facciamo un omaggio anche agli amici siciliani. Allora, siciliani. Due minuti e mezzo per voi. Care le mie, Paola e Chiara. No, Simone e Chiara. Oh, carino. Carino, bravo. E' esattamente questo il tema della prova di presentazione. Il giocare con delle cose che sembrano esserne una e bensì sono un'altra. Mi ricordo ancora una prova che vi è piaciuta tantissimo con un cappuccino di baccalà e patate con il cornetto salato e la bottarga che faceva il cacao che sembrava una cosa e l'era un'altra. E qua quando ho visto il cornetto mi è venuta a mente. Brava, Simo. Di qua, anche qui, precisione massima più zen. Con dei rotolini. Mi ripeti, Anna, mousse al prosciutto e paprika. Sì, mousse al prosciutto e paprika. All'interno c'è la mozzarella. E chiusi con un filo di erba cipollina. Ok. Se vuoi spuntare... Ah, l'ho fatta apposta così. Sì. Ci piace, ci piace. Un minuto e mezzo circa. Visto che abbiamo parlato di mozzarella, forse ne parlavo ieri sera, forse con qualcuno, non mi ricordo. La mozzarella, quando avete la mozzarella buona di bufala o di fior di latte nel suo latte e la tenete in frigorifero, quando la togliete dal frigo, la lasciate nel suo sacchetto con il siero, la immergete in acqua tiepida, anche calda, cioè molto fredda, così scalda in maniera omogenea e graduale il siero, che a sua volta riporta a temperatura ancora più gradualmente la mozzarella stessa. Così non si perde latte, non si perde siero all'interno e la mozzarella ve la mangiate come deve essere mangiata, ovvero a temperatura. Ambiente. Questa è una buona idea, devo dire, è un'idea una di Simone Ruggiani. No, è un'idea una di tutti i napoletani che sono... Oddio, io dico napoletani per la mozzarella, però insomma non è che è solo lì. Anzi, io sono andato a mozzare le mozzarella in Romagna e ho scoperto che c'erano delle bufale pazzesche. Le bufale romagnole. Se vogliamo dire è la mora romagnola, che è la più buona e la più famosa. E ci sono delle more in Romagna, pintando i frutti, eh, in questo caso. 3, 2, 1, stop! Pianti sull'alzata? Pianti sull'alzata, brave! Sono sempre state bene o male nei tempi, vi faccio io l'applauso, ho scherzato finora con voi. Ma qua non si scherza per niente, per niente. Per niente. Perché guarda cosa t'hanno combinato le nostre due amiche. Eh, parliamo un attimo di More Romagnoli, devo raccontarti una cosa, però in privato, pubblicità. Ben tornati in studio, siamo in fase finale di puntata e siamo tornati all'antipasto. Prosciutto e mozzarella. 22 per Chiara, 18 per Simona. E il nostro scorpioncino, tutto beve, ha tirato fuori dal cilindro una degustazione di prosciutto e mozzarella. Questo è il piatto di Simona. Sei stata brava, intanto a pensare tre varianti diverse. Posso ripilogarne, scusa Chiara, per chi magari è arrivato solo adesso. Ha fatto un cappuccino frullando la mozzarella con il latte, con sopra il cornetto ovviamente al prosciutto. Un finto hamburger con la mozzarella e il prosciutto dentro e il prosciutto e il melone che abbraccia la mozzarella. Anzi, la mozzarella e il prosciutto che abbraccia il melone. Sei stata brava a pensarne tre varianti diverse e sei stata bravissima a renderle comunque esteticamente perfette. Perché sono molto belle, devo dire, invogliano tutte e tre le versioni. E soprattutto prosciutto e mozzarella si vedono. Sì, sono visibili, evidenti, protagonisti del piatto. Eleganti e non banali che non è facile secondo me per un piatto del genere. Quindi bravo. Io ti dico, guarda, che veramente solo perché siamo in onda non faccio così. Guarda, ma proprio tu non sai quanto... Dai, mangialo. No, non ce la posso fare perché non voglio rovinare il piatto a fiammetto nel giudizio. Comunque questo mini cornettino con quel prosciutto dentro... Si soglia giusto qua. E' fatto benissimo. E' un piatto meraviglioso. Io vi saluto. Buongiorno a tutti. Questo, finito il giudizio, ce lo giocchiamo alla morra. Sì, alla morra. Questo è quello che nella cucina contemporanea si chiama prosciutto e mozzarella in tre maniere o in tre versioni o in tre vesti. E questo è molto carino anche perché c'è l'inganno del cappuccino e del cornetto salato. Posso solo dire che è proprio carino e che ecco come presentare anche se uno in casa ha giusto prosciutto e mozzarella con un po' di fantasia anziché sbatterli lì. Ecco cosa si può fare in sette minuti. Ecco. Molto più zen la preparazione di Chiara. In voltini di formaggio con crema di prosciutto cotto, la mozzarella ovviamente, e poi spruzzate di paprika. Allora, qui invece sì, molto più semplice ed essenziale. E' carino anche questo. Rimane comunque elegante se è stata brava a fare la mousse di prosciutto. Le cose che io non avrei messo sono intanto questi stuzzicadenti che non li vedo necessari perché c'è già il fiocchettino che chiude di erba cipollina. E poi questa mozzarella in più. Bastavano secondo me questi tre assaggini, tra l'altro tre giusti perché... Questa se vuoi te la levo. Io immaginavo che la levassi. Se ti dà fastidio. Però comunque è comunque un bel piatto. Stupisce come le nostre concorrenti abbiano deciso tutte e due di prendere un piatto verde. Speranza di vincere il kit. E qua devo dire che concordo con Chiara Maci non avrei messo i tre stuzzicadenti un po' in ritro con queste picche. E ti devo dire che purtroppo qui oltre questa isoletta di mozzarella che sembra proprio messa per prenderla così, purtroppo ritroviamo... La neve. La neve. Il peggior del libro di Riccardo Rosso. La neve era sporca. Un libro di George Simenon mi sembra di rivederlo proprio qui. Scriviamo un libro di ricette di Pochi e Fiamme rivisitando quelle dei concorrenti con scritto no alla neige. No alla neige. O le catene di Riccardo Rossi. Esatto. Per la neige. Questo è il principio di Chanel, less is more, meno è di più. Nel senso che è un piatto pulitissimo, elegante. Quando uno dice prosciutto e mozzarella pensa sempre una cosa un po' nutritious, molto... Invece qui è pulitissimo. Devo dirti che graficamente è molto bello. Più... Hai detto il profumo, io mi sono un po' fricato. Più cinese che giapponese, perché questa cosa qui mi riporta un po' in Cina, dove ci sono... Lo spidino. Questi qui, sì, così, sono molto graziosi. Come è che sono? Quello lì, ecco. E mi piace anche la neige in questo caso. E anche l'isola, perché vedi, senza isola era nudo. Con l'isola... C'è anche... Funziona. È l'isola che non c'è. Eh sì. La vedi e poi... Allora, signori miei, Peter Pan, la giuria. Simona, prosciutto e mozzarella era il tema. Simona è sotto di quattro. E mi sa che ha fatto il massimo per potersi rifare. Questo è il piatto di Chiara. 22 a 18 al momento la situazione. Brava, Simona. Brava. 15 a 12, ma non basta. Un punto solo. 35... No, due punti. 35 a 33. Dammi un bacino, dai. 15 a 13 sul finale. Bravo, ti porti a casa. Non è che chi ti vuole un fiamma. Vieni qua. Allora, vieni qua. Vai, amora. Vimbo, valla e giù. Vai. Pari. Pari. Ho vinto io. 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 Andiamo all'appuntamento. Ah, la bocca piena? Un certo e quaranta. Domani ho vinto? Di. Come domodosola. Poche fiamme. Bravo. 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 Hai lavorato benissimo. Bravo. Bravo. Vicky. Bravo. 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 Evo'r there bake. Flora. Seni. H box. Fiore. Pasdano,